È un'esperienza sempre, potrebbe portare a qualcosa. Io anche l'anno scorso nella serie Succession ho fatto la controfigura di Sara Snook e quindi ci sono molto, molto, sì, mi piace quest'ambito. Ad Arezzo si cercano comparse per il sequel di Fosca Innocenti. La fiction infatti è pronta a raddoppiare con una seconda stagione sempre su Canale 5 ed in prima serata. Stiamo reclutando i generici per questa nuova seconda stagione, visto che la prima è andata benissimo. Saranno altre quattro puntate per la regia di Giulia Manfredonia. Vice questore inocente, Lelli Spettore Lulli. A vestire i panni del vice questore di Arezzo sarà nuovamente Vanessa Incontrada ed anche il sequel verrà girato in provincia. Le location sono tutte qua o in città o in zona, la questura è in piazza grande, sono dei riscontri importanti sempre per i luoghi che ci ospitano. Quindi è uno scambio reciproco. E così in via di pellicceria, nel cuore della città, si sono svolti i casting per fare da comparse e partecipare alla sede tv come attori. Siamo qui appunto per cercare il numero, la massa, ma anche piccoli figurazioni speciali, qualche battuta. E Arezzo sta rispondendo molto bene, come sempre. Avevo già lavorato qui in passato e devo dire che è sempre un piacere a tutti i livelli. E niente, non vediamo l'ora di partire il 13 giugno, fino al 23 di luglio.